Uno, due Un liquore a tutti della passione perché con un po' di passione non tanto ci vuole Soprattutto dopo le rispondeliche? Sicuramente E un liquore a lì, questo perché mi piace dal colore E per finire un po' di sorbetto Ho preso 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 un po' di sorbetto Perché la gente oggi, specialmente nelle discoteche, non beve molto bene Anzi, beve molto male Siamo così Poi tutti mi chiedono E invece è una grandissima porcata Allora Allora Poi te lo sei bevuto alla fine? Ovvio Altrimenti, voglio dire, lo faccio anche bere veramente Quindi? Mi hanno detto che vuoi E' finita bene, diciamo Sì, sì Ho detto Ho detto Guardi te lo faccio io Un po' Sì, sì Che cosa Ma non è che non saviere tutto Volevo dire Grazie. Grazie.